Angela Ilari è la figlia della titolare della tabaccheria Fortunata dove è stato venduto il biglietto che ha vinto ieri un milione di euro. Lei si ricorda chi è il Fortunato? Avete un'idea? Purtroppo no. Devo dire che sicuramente il biglietto è stato venduto tra i primi che sono arrivati nella nostra tabaccheria perché a nostra memoria ci ricordiamo che questa serie era la serie presente tra i primi biglietti. Quindi di sicuro questo non aiuta pure sul fatto di ricordare il possibile vincitore perché essendo passato un po' di tempo abbiamo difficoltà a capirlo. Quindi non sapete se è un trapanese oppure uno di passaggio? Non avete idea? Non abbiamo nessuna idea in merito. Un appello al vincitore? Allora noi al vincitore diciamo che siamo qui, che lo aspettiamo e innanzitutto che siamo davvero felici per lui che veramente questa vincita possa aiutarlo in qualsiasi ambito della sua vita. Noi siamo qui, se lui volesse ci trova per festeggiare insieme a lui.